Grazie, grazie a tutti, ai sindaci e amministratori del territorio che hanno creduto nel mio progetto. Queste le prime dichiarazioni di Giuseppe Rinaldi, nuovo presidente della provincia di Rieti, post-riforma del Rio. Con il 61% delle preferenze, il candidato di centro-sinistra si impone dunque su Michele Nicolai, dell'area centro-destra, fermo al 39%, per un totale di 411 voti a 285. Da domani subito al lavoro per risolvere i problemi di questo ente che, come tante in Italia, si trova in una situazione di forte difficoltà economica, continua Rinaldi. Siamo in una fase di transizione e per questa ragione occorre ridisegnare l'ente provincia. La priorità del nuovo presidente? Sicuramente il settore economico e finanziario precisa. E questa è la nostra assoluta priorità e l'obiettivo principale è reperire quelle risorse in grado di poter dar vita a un nuovo ente. Essendo quella della provincia un'elezione di secondo grado, dove non ci sono commissari ma organi eletti, speriamo di poter interloquire con gli amministratori del territorio reatino, con i sindaci e le istituzioni per instaurare quella collaborazione necessaria per reperire le risorse economiche.